Ciao, fattori primi di 333, utilizzando il metodo ad albero. 333 è un numero dispari, dunque non si può dividere per il numero primo 2. Però, 333 è un numero divisibile per il numero primo 3. Lo sappiamo perché, se sommiamo le cifre di 333, ovvero 3 più 3 più 3, otteniamo 9 che è divisibile per 3. Ciò significa che 333 è divisibile per il numero primo 3. Infatti, 333 diviso 3 dà come risultato 111. 111 è un numero dispari, dunque non si può dividere per il numero primo 2. Però, anche in questo caso, possiamo osservare che 111 è divisibile per il numero primo 3. Possiamo, infatti, verificare la somma delle cifre di 111, ovvero 1 più 1 più 1. Otteniamo 3. Ciò significa che 111 è divisibile per il numero primo 3. Infatti, 111 diviso 3 dà come risultato il numero primo 37. 37 è un numero primo perché solamente è divisibile per se stesso e per 1. Adesso possiamo evidenziare tutti i fattori primi che abbiamo ottenuto. Concludendo, si può affermare che 333 scomposto in fattori primi è uguale a 3 per 3 per 37. Oppure, se utilizziamo le notazioni esponenziali, si può anche affermare che 333 scomposto in fattori primi è uguale a 3 al quadrato per 37. Grazie per la vostra attenzione.